oggi la chiesa celebra il padre maestro stiamo parlando di san francesco antonio fasani il cui concittadino è padre raffaele di muro preside del serafico ma qui diamo il buongiorno il bentrovato a di buon mattino un giorno attento nero ben trovato giaco padre raffaele diciamo ti abbiamo chiesto di essere oggi qui con noi perché la figura di san francesco antonio fasani è una figura anche poco conosciuta che però in realtà per te ha significato tanto nella tua vita perché l'abbiamo detto in quanto concittadino di lucera anche la tua vocazione nasce lì però se volessimo raccontare per chi non lo conosce chi è stato il padre maestro e perché questo nome per chiunque diciamo si addentri a lucera e dintorni è il padre maestro sì ecco una figura non molto conosciuta perché ha operato quasi per tutta la sua vita a lucera quindi la sua fama è piuttosto locale poi accade questo che quando viene conosciuto dicono beh si tratta proprio di una figura di dispessore padre maestro padre maestro perché lui aveva questo titolo che si dava ai frati colti ai frati sapienti che raggiungevano il top degli studi quindi lui è padre maestro perché aveva questo titolo di di docente di studioso è un titolo che oggi non esiste più ma nel passato veniva dato ai frati che concludevano tutto il percorso degli studi quindi raggiungevano il dottorato il punto più alto però in realtà questo nome che gli veniva dato perché appunto frate colto in realtà poi diventato il titolo che gli ha dato la gente che ha dato che gli è stato conferito dalla gente che lo chiamava padre maestro di vita di fede di vita spirituale lui era il frate a tutto campo che non si è solo dedicato ai giovani frati studenti ma a tutti tutti si rivolgevano a lui e quindi questo nome che era un nome diciamo così accademico è diventato il nome del popolo per cui oggi a lucera viene ricordato così il padre maestro quando la popolazione quando il popolo stesso ti dà un nome probabilmente perché sente e avverte tanto la vicinanza e questa vicinanza era proprio l'apostolato del padre maestro che si rivolgeva a tutti quanti fin anche ai condannati a morte col suo operato in carcere proprio così lui veniva definito il frate della forca accompagnava alla forca i condannati a morte e visitava le carceri ma soprattutto coloro che erano condannati alla pena capitale e si raccontano tanti fatti molto belli le sue biografie sono ricche di episodi nei quali i condannati pian piano mentre raggiungevano il patibolo si riconciliavano con il signore e vivevano momenti di vita spirituali bellissimi anche in una situazione drammatica ecco un apostolato particolarissimo accompagnava alla morte persone condannate che però potevano fare un'esperienza di vita proprio in quel momento di fine di dolore di morte tu ci hai detto padre raffaele che il padre maestro deriva anche dal fatto di aver completato tutto un ciclo di studi però se pensiamo alle origini del padre maestro delle origini umili delle origini povere il papà muore quando lui era ancora piccolo la mamma si deve risposare se pensiamo a questo capiamo ancora di più la sua vocazione per gli ultimi proprio così lui nasce una casa piccolissima poverissima e nasce da una famiglia molto molto semplice molto povera quindi tocca con mano che cosa vuol dire non aver nulla tocca con mano che cosa vuol dire fare di tutto per poter sopravvivere in una situazione poverissima dolorosissima basti dire questo la mamma del padre maestro era tra i poveri che bussavano al convento quando suo figlio entrerà ma anche prima cioè lui conosce che cos'è la povertà vera soprattutto il disagio della gente che vive situazioni drammatiche lui era amico soprattutto di coloro che era amico di tutti e accompagnava tutti però soprattutto di coloro che erano esclusi il papa ci parlerebbe di periferie sociali di periferie e lui queste periferie le aveva conosciute ed era vicino a tutti coloro che soffrivano le tracce di questa profonda umiltà sono presenti anche nella sua casa natale a lucera e allora proprio lì si vogliamo portare con questo servizio ci troviamo in via torretta nella piazzetta antistante la casa natale del padre maestro fino all'età di 14 anni lui è vissuto qui in questi e questa piazzetta in questi vicoli in queste stradine e quindi lui scorazzava come tutti gli altri bambini da queste parti anche se in realtà era un bambino un po come dire un po chiuso lui amava seguire la messa pregare fin da piccolo tant'è che si racconta che spesso in casa preparava un attarino e ripeteva i gesti e le parole del sacerdote pronunciate durante la santa messa ora siamo all'interno della casa natale e come ben potete notare si tratta di una casa veramente molto piccola umile semplice di circa 20 25 metri quadri vivevano sei persone il padre maestro è diventato un appellativo molto affettuoso per noi ci siamo ci sentiamo legati a lui come padre maestro padre perché parte di tanti di noi ma soprattutto all'epoca dei poveri e maestro perché lui riusciva a consigliare bene nella le persone per la loro vita ancora oggi nonostante i quasi e più di 277 anni dalla sua morte tutti quando lo sentiamo come nostro il nostro santo il santo di tutti padre raffaele entrare in quella stanzetta perché di fatto è una stanzetta che adesso è una cappella ci porta a quello che dicevi tu come padre dei poveri perché ha vissuto in prima persona la povertà ma in realtà la seconda parte maestro perché grande predicatore non tutti conoscono questa sua dote di predicazione e ci porta alla giornata di oggi ovvero l'inizio della novena dell'immacolata che per il padre maestro diciamo costituisce non solo il giorno del transito tra l'altro delle immagini del transito vorrei ringraziare studio 9 tv la web tv di lucera che ci ha mandato le immagini che state vedendo delle celebrazioni di ieri ma in realtà questo 29 questa inizio della novena dell'immacolata ci porta proprio alla vocazione del padre maestro sì proprio così una vocazione mariana un amore tenerissimo per la vergine immacolata tra l'altro come dicevi tu lui predicava la novena ha scritto anche le sette novene mariane e ovviamente tra queste la novena dell'immacolata come tu dicevi il dogma arriverà successivamente ma nel mondo francescano già c'era l'amore per l'immacolata e lui tra l'altro da superiore del convento di lucera e ha fatto costruire una bellissima statua ha ordinato una bellissima statua dell'immacolata a un artista napoletano famoso il colombo che è ancora venerata dai fedeli quindi un amore grande un amore forte per l'immacolata che lui trasmetteva attraverso la predicazione lui ha predicato praticamente in tutta la capitanata fino al molise era il predicatore dell'immacolata e in questo c'è anche il legame che non solo le persone di quei luoghi hanno coltivato ma te appunto come suo concittadino hai coltivato fin da quando eri piccolo perché ci racconti che ti trovavi ad andare sulla sua tomba a pregare già quello era un momento di apprendimento di vicinanza si rimangono indelebili ricordi di quando con mamma papà mia sorella andavamo a visitare la tomba del padre maestro allora ancora beato e il racconto anche che i miei genitori facevano di questo santo il racconto che ricordo la maestra a scuola faceva di questo santo cioè pian piano la sua spiritualità è entrata fin da quando ero piccolissimo e anche se poi la mia vocazione avviene dopo i vent'anni e l'ho riscoperto in età più grande facendo un percorso francescano lì al convento di lucera e il convento di lucera è stato il luogo nel quale in effetti ho iniziato poi il cammino e il percorso quindi tutto direi avvolto da questa spiritualità del padre maestro che ancora oggi ecco sento molto forte nel cuore penso si veda si vede si vede te lo assicuriamo si vede si vede che anche vi accompagna maria se posso dire in questa in questa vocazione grazie come sempre a padre raffaele di muro preside del pontificio istitutio di teologia san bonaventura serafico me l'ho detto tutto giusto grazie padre raffaele di essere come sempre qui con noi accompagnati grazie padre raffaele grazie